Sì, Elena, no? Sì, deve andare giù. Deve andare giù. Su, Elena, su, su, su. Elena, io lo posso portare, perché tutti hanno proprio scelta di apprendere. Ma poi lì non sono proprio. Stai pure da noi arrivare con il papà. Non toccare. Che esce? Non toccare. Sì, ferma, ferma, ferma. Papà, guarda che esce. No! No, Agatha, metti là, vogliamo solo fuori. No, perché la mamma ha detto che non lo vuole sulla tua paglia. Chi? Ma però... Allora lo chiamiamo Henry? No! Come no? Henry, l'Hermi, Henry. Ma non gli piace, papà, basta! Fa niente, io sono il papà. Lo chiamiamo Hermet. Sì, Hermet. No, Henry. No, Hermet. Henry. Hermet. Henry. Hermet! Henry! Hermet! Lo uccido. No, ma per Hermet. Bernardo, è l'italiano. Cosa hai detto? Bernardo. Cosa? Come ti sei? Bernardo è Hermet. Bernardo come laminetti. Giù. Perché? Oh, oh. Andai, papà, 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 papà. No, 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 papà, hai sentito la mamma? No, 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 anche tu hai detto. Ok.